Il 2023 in Puglia ha fatto registrare il saldo peggiore tra nascita e mortalità delle imprese agricole. Poco più di 75.000 imprese a fronte delle oltre 77.000 al 30 novembre 2022 hanno determinato una perdita di 2.233 aziende. A questo dato negativo si accompagna il tracollo del valore del grano, le difficoltà per olivicoltori e frantoiani, l'anno nero per i vitivinicoltori a causa della peronospora e prezzi in aumento dell'ortofrutta con costi di produzione alle stelle. Sono questi alcuni dei temi al centro di agricoltura Agenda 2024, un incontro per fare il punto sul comparto organizzato da Cia Puglia a Bari. Nella filiera agroalimentare la parte preponderante dell'attività viene svolta dal settore primario, quindi dal mondo agricolo, ma il valore, la ricchezza che viene prodotta all'interno dell'intera filiera viene redistribuita in maniera non equa. C'è molto a valle, troppo poco nel settore primario che poi è l'asse portante dell'intera filiera. La nostra attenzione sarà concentrata su questo per fare in modo che le imprese agricole possano avere la giusta remunerazione per l'impegno, gli investimenti e il lavoro che mettono in campo ogni anno a vantaggio di tutto il sistema. Sono dieci le battaglie per l'agricoltura in Puglia proposte da Cia, da una politica agricola comunitaria da rivedere all'esigenza di dire no al Consorzio Unico fino al nuovo CSR, ovvero il Complemento Regionale di Sviluppo Rurale 2023-2027. Dobbiamo ripartire di dare dignità a tutte quelle aziende del Salento che vogliono investire e rigenerare il patrimonio olivicolo regionale, in più sui consorzi di bonifica a livello regionale, che non è possibile che dopo 25 anni di commissariamento non c'è stata quell'attenzione alle infrastrutture per l'irrigazione, quindi ci sono grossi impegni che noi come organizzazione porteremo avanti verso le istituzioni.